Buongiorno a tutti, due giorni fa abbiamo nella nostra quotidiana analisi dei fatti dell'agosto del 1943 attraverso i documenti diplomatici italiani, quindi abbiamo constatato come tra Roma e Berlino vi siano ulteriori attriti, ulteriori attriti sia per la questione di Roma città aperta, che come abbiamo visto è un tema caldo perché riguarda ovviamente anche le eventuali truppe stanziate a Roma. Se il governo italiano in maniera unilaterale ha deciso di dichiarare demilitarizzata la propria capitale per evitare che vi possano essere degli ulteriori bombardamenti, sappiamo come il Vaticano, la Santa Sede abbia fatto una sorta di pressing su questo tema per la questione delle opere artistico-religiose, ma non solo, la Chiesa premiva quello, sull'aspetto della popolazione civile, almeno dai documenti diplomatici italiani, non emerge, quindi diciamo che tutte le relazioni che vengono interconnesse tra l'ambasciata italiana presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato Vaticana, diciamo che tendenzialmente ha come oggetto il problema delle Chiese, quindi questa è la sensibilità della Chiesa in quella circostanza. Ebbene però vediamo che i temi tra Roma e Berlino sono anche altri, e proprio due giorni fa abbiamo avuto modo di vedere come l'ambasciata italiana a Berlino abbia espresso al Ministero degli Affari Esteri tedesco il sentore che a Roma vi siano troppe SS, nel senso che ci siano delle SS che in qualche modo abbiano dei motivi diversi da quelli della pacifica collaborazione militare tra alleati, e c'è il sospetto, e questo va un po' a inserirsi anche attraverso quel sottobosco di recriminazioni che ovviamente l'Italia rivolge alla Germania, ricordate che qualche giorno fa abbiamo raccontato delle recriminazioni nei confronti di soldati tedeschi che passavano il Brennero in maniera abbastanza violenta, quindi anche facendo delle angherie nei confronti dei ferrovieri, ma anche avendo sugli elmetti scritto Viva il Duce, quindi in qualche modo diciamo che non è che venissero in Italia con buone intenzioni, ma anche a livello formale non esprimevano tutta questa simpatia verso il governo Badoglio, e quindi vi era il sentore che questa eccessiva presenza di SS poteva dare il sospetto di un eventuale colpo di stato, un colpo di mano contro il governo Badoglio per ripristinare attraverso quei simpatizzanti ancora vigenzi, sappiamo che in quelle ore ci sarà l'uccisione di Muti e anche con una serie di altri strascichi meno cruenti, il secondo arresto di Cavallero, c'è stato l'arresto di Buffarini-Guidi, quindi tutta una serie di attività che in qualche modo tra le contrapposizioni tra chi è fautore o chi sarebbe fautore del ripristino di un governo pienamente fascista, quindi con anche una più sostanziale collaborazione con l'alleato tedesco, e chi invece in questo senso cerca di evitarlo, governo Badoglio, per cercare appunto, come si sa, negli stessi giorni ci sono le trattative segrete con gli anglo-americani, quindi per andare da un'altra parte. Ebbene, quindi fatto questo cappello, arriviamo a questo documento del 25 agosto da Berlino, l'incaricato di affari a Berlino e Roger di Villanova al Ministro degli Esteri Guariglia, quindi vediamo cosa riferisce a proposito delle comunicazioni fatte con le autorità tedesche del Ministero degli Affari Esteri. In assenza di Stengrak mi sono trattenuto solo con Enche circa contenuto telegramma di vostra eccellenza numero 1014, di cui abbiamo già riferito l'altro giorno. Enche mi ha immediatamente manifestato sua incredulità circa reale fondamento nostri timori. Gli ho risposto non potersi dubitare delle informazioni in possesso nostro e che quindi dalla sua risposta riducevo che si trattava evidentemente di elementi irresponsabili in nessun modo incoraggiati da questo governo. Aggiunsi che qualora un piano del genere fosse stato concepito e tentato anche da poi elementi, il solo tentativo poteva creare una situazione di cui non si potevano prevedere le conseguenze data presenza di così numerose forze armate tedesche e soprattutto delle SS in Italia. Ciò rendeva imperative le misure di precauzione prese dal nostro governo, di cui Enche mostrò stupirsi per prevenire qualsiasi tentativo del GED. Ma è eccessivo i tedeschi, ma non vi preoccupate, è tutto tranquillo. Enche mi assicurò a mia richiesta che avrebbe portato mio passo a conoscenza di Ribbentrop, ma ha contemporaneamente espresso il desiderio di poter informare suo ministro anche circa dati concreti in possesso del governo italiano affinché egli potesse prendere da parte sua eventuali decisioni al riguardo. Datici delle prove maggiori, questi vostri dimori da cosa sono suffragati? Gli dissi che avrei prospettato a vostra eccellenza tale sua richiesta. Per parte mia, permetto mi esprimere opinione personale che a un complotto del genere si debba ritenere estranea quella direzione della politica estra tedesca, mentre non è da escludersi che esso possa rientrare nelle idee e nei desideri di quello Stato nello Stato che è costituito dalla organizzazione delle SS. E qui possiamo dire che l'incaricato affari italiano a Berlino parla con connessione di causa, nel senso che esistono delle conflittualità interne al Reich. Sappiamo come Himmler è effettivamente uno Stato e uno Stato. Uno Stato e uno Stato, anche indipendentemente ovviamente oltre dalle forze armate regolari, la Wehrmacht in stretto significato del termine, ma anche Ribbentrop come ministro degli affari esteri e altre branche del governo nazista. Mi conferma in questa opinione la circostanza che proprio in questi giorni ho avuto notizia dalla bocca sia di questo segretario di Stato per gli affari esteri che di questo ambasciatore giapponese, nonché di questo ministro di Ungheria, dell'eco della profonda e rassicurante impressione che attitudine e dichiarazioni di vostra eccellenza a Tarvisio hanno fatto sul ministro Ribbentrop e sullo stesso Führer, valendo a rasserenare le apprezzioni che qui si nutrivano sulle intenzioni del governo Badoglio subito dopo la caduta del fascismo. Non so questi riscontri quanti siano veritieri e quanto siano attendibili nella persuasione che Guariglia sia stato convincente in ciò che ha detto a Tarvisio, tant'è che in questo momento sembra così. Sarò grato a vostra eccellenza se, qualora nulla osti, mi vorrà mettere in grado di fornire al signor Enche per uso del ministro Ribbentrop i dati desiderati onde mette all'ingrado di prendere eventualmente da parte loro le misure del caso contro i responsabili a riprova dell'asserita loro buona fede in questa deplorevole faccenda. E qui ci offre ovviamente una situazione particolarmente sfiziosa. C'è anche una nota, circa questo telegramma Mario Badoglio trasmise a Capranica la seguente nota autografo del capo del governo. Mario Badoglio è il figlio di Badoglio. Mi sembra che Rogeri sia un po' ingenuo, chiede che gli forniamo i dati ma non gli possiamo dire altro che sappiamo con sicurezza ed il modo di saperlo è comune a tutte le polizie. La cosa non deve finire qui. Prendiamo spunto da questo per insistere sulla necessità che siano ritirate le informazioni dalla capitale anche quelle mascherate ma che conosciamo perfettamente. Noi non abbiamo a Berlino simile organizzazione. Se ne parla apertamente in tutta Roma. C'è anche una reazione ufficiosa un po' piccata sul tale argomento. Siamo ancora padrone a casa nostra e quindi sono loro che devono in qualche modo rendere conto a noi a Roma e non viceversa. Detto questo il 26 agosto Guariglia, proprio lui, presenta un appunto a Badoglio così formulato. L'incaricato d'affari di Germania è venuto stamani a vedermi e mi ha dato comunicazione di un telegramma di Ribbentrop in risposta al nostro passo relativo al complotto organizzato tra elementi del partito nazionalsocialista e delle SS residenti a Roma ed esponenti del regime fascista contro il governo italiano. In tale telegramma Ribbentrop dice quanto segue. Vediamo cosa risponde Ribbentrop. Il governo tedesco refuta in maniera assoluta che elementi del partito nazionalsocialista e delle SS preparassero un colpo contro il governo del maresciallo Badoglio. È completamente escluso che queste accuse possano essere vere perché, come è noto in Germania, la politica non è fatta da membri del partito e da membri delle formazioni, ma solamente dal fiore. Qui diciamo che tira un po' il camperlaia, diciamo che è un po' ruffiano in questo. Il governo tedesco non può accettare che si fatte accuse siano fatte in modo così vacuo e generale e rincare la dose. Al contrario, il governo tedesco deve ora insistere molto e decisamente perché il governo italiano dia informazioni concrete indicando personalmente i membri tedeschi che fossero implicati in questo affare. Inoltre, è del tutto naturale che i membri del partito nazionalsocialista tedesco abbiano ancora dei contatti con elementi fascisti con i quali essi erano già prima in rapporto poiché non è abitudine tedesca di cambiare di amicizia come di camicia. E qui probabilmente c'è un po' una stoccata al governo Badoglio. Per quanto concerne la presenza di fascisti in Germania, il governo tedesco respinge l'insinuazione che sia permesso a tali fascisti di cospirare in territorio tedesco contro l'Italia e tantomeno che essi siano aiutati in ciò. Beh, c'è farinacci che in qualche modo non è che sia in villeggiatura in Germania. Una tale attività è da escludersi per il fatto che tali fascisti sono nella impossibilità di comunicare telegraficamente e telefonicamente con l'Italia, già che come è noto tali comunicazioni sono interrotte. Diciamo che però ha parlato per radio, farinacci. Ma se il governo italiano annette valore al fatto che i fascisti ora in Germania vadano a risiedere fuori della Germania stessa, il governo tedesco è a ciò disposto. È da chiedersi tuttavia se ciò sarebbe nell'interesse dell'attuale governo italiano. Per ciò che concerne la minaccia di prendere misure contro i tedeschi, queste misure lasciano freddo il governo tedesco, ma il governo italiano deve realizzare che il governo tedesco, se in Italia un tedesco fosse toccato, prenderebbe le sue rappresaglie. Questo mi sembra un po' un discorso mafioso, cioè diciamo veramente una cosa del genere veramente non ha neanche a corleone, diciamo che veramente neanche gli esponenti più verrebbe in mente. Vabbè, comunque c'è una situazione abbastanza bei tipini. Allora, finisce il vitro lettato. Questa è la comunicazione che mi ha fatto il principe di Bismarck. Ho risposto pregando di ringraziare Ribben troppo di quanto egli mi aveva fatto comunicare, lo ringrazia pure. Ho aggiunto che tenevo a dichiarare che non avevo parlato di elementi responsabili del Partito Nazionale Socialista tedesco e delle SS, ma di singole persone irresponsabili che erano in contatto con elementi fascisti. Qui cerca un po' di essere molto più diplomatico. Desideravo chiarire inoltre che l'iniziativa del complotto era probabilmente partita da elementi fascisti, che il fatto che essi erano in contatto con dei nazionalsocialisti tedeschi ha provocato naturalmente l'opinione che agivano d'accordo tra loro. Ho promesso quindi al principe di Bismarck che avrei chiesto precisazioni alle autorità competenti per rispondere alla richiesta tedesca di informazioni e di indicazioni più precise. Ho aggiunto che da parte mia trovavo comprensibile che esistessero rapporti di amicizia fra tedeschi ed elementi del passato regime, ma dovevo anche osservare che questi rapporti sono estremamente pericolosi perché gli elementi del passato regime hanno la naturale tendenza a compromettere i loro amici tedeschi. Una sorta di gioco a rimpiattino, nel senso che tu mi dici che non bisogna cambiare come le camicie dall'altra parte, però ti dico che a giocare col fuoco ci si scorta. Nessuno può negare che questi rapporti esistono e ne prova il fatto che Farinacci, Pavolini e Vittorio Mussolini sono fuggiti in Germania col concorso e con l'aiuto di elementi nazisti. Non si tratta dunque semplicemente di rapporti di amicizia, ma di rapporti che si realizzano in azione concreta. A questo proposito tenevo prima di tutto a ringraziare Ribben troppo di quanto, egli aveva voluto dichiararmi che cioè il governo tedesco non permette ai fascisti rifugiatisi in Germania di cospirare contro l'Italia e che esso era pronto a metterli fuori dalla Germania. Per quanto poi riguardava l'ultima parte della sua comunicazione, cioè la pretesa minaccia italiana di prendere misure contro i tedeschi, volevo fare osservare che non si trattava affatto di una minaccia, ma della naturale volontà di un governo di difendersi a questo proposito dovevo esprimergli. Punto primo. Il desiderio del governo tedesco è che il governo tedesco impartisca le necessarie istruzioni perché i tedeschi residenti in Italia sappiano quale contegno devono mantenere nei riguardi l'attuale posizione italiana. Comprendevo benissimo, ho aggiunto, che la politica tedesca è fatta dal Führer, ma non è da escludersi che vi siano persone che, vivendo lontane dalla Germania, in altri ambienti, credono di far cosa utile prendendo delle iniziative personali che possono non rispondere alla politica del Führer. Eppure qui è abbastanza, diciamo, fa lo slalom. Punto secondo. Il desiderio del governo italiano di mantenere in maniera permanente e sicuro i suoi buoni rapporti fra i due paesi e quindi di eliminare tutte le ragioni di attrito e di malintesi che potessero sorgere in una situazione come l'attuale. Ah no, finisce qua. Quindi è un inciso in questo senso. Punto, no, finisce il punto secondo. Il primice di Bismarck comunicava immediatamente questa mia risposta al suo governo riservandosi di fornire quelle prove della partecipazione di elementi tedeschi al complotto fascista che noi gli daremo. Mi permetto quindi di far presente l'urgenza che mi sia trasmesso dalle nostre autorità competenti e un rapporto di polizia, possibilmente con qualche indicazione precisa, di individui tedeschi che hanno avuto parte nel complotto. La risposta di Badoglio manca, ma il suo contenuto si resume dalla nota numero 1, pagina 877, al documento che è quello di prima. Guariglia informò l'ambasciata a Berlino di questo colloquio. Diciamo che sappiamo dal discorso di Mario Badoglio che probabilmente non si procede in tal senso. Diciamo che la situazione si aggrava, nel senso che volano stracci, nel senso che non è solo una questione di truppe, ma diventa anche una questione di intelligence, di politica, di sottobosco, di agenti più o meno ufficiali, ufficiosi, come dir si voglia, in cui sicuramente elementi come Dolman, come Kappler, che sapremo essere particolarmente anche brillanti nella loro attività di intrigo, di cose losche e di cose cruente anche. Da lì ai mesi successivi, durante tutto il periodo dell'occupazione di Roma, diciamo che in qualche modo ci dà un po' la cartina di tornasole di un clima veramente preoccupante, sotto ogni punto di vista e in qualche modo diciamo che la situazione è molto molto difficile da decifrare. Quindi detto questo e abbiamo dato un'altra smazzata un po' a questi fatti che ci accompagnano in maniera abbastanza sincopata nella realtà dell'8 settembre e debbo dire che ci si aprono veramente scenari inquietanti sotto ogni punto di vista. Detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!